Ciao bambini! Hi! Ciao! Siamo qui allora per ricordare assieme a voi le piccole quattro regole che dobbiamo tenere a mente per allontanare quel brutto mostriciattolo che non ci piace. The bad yucky germ! Prima regola, ricordati, lava le mani con attenzione usando sempre acqua e sapone. Top and bottoms, top and bottoms and in between, in between. Scrub them all together, scrub them all together. Now they're clean, now they're clean. Occhi, naso e bocca non devi toccare se prima le mani non ti sei andato a lavare. If you have dirty hands, dirty hands, if you have dirty hands, dirty hands, don't touch your eyes, mouth and nose, if you have dirty hands, dirty hands. Se non ti senti bene, stare a casa ti conviene. Per non peggiorare la situazione, hai segnali del tuo corpo, presta molta attenzione. And please, number four, cover your mouth when you cough and sneeze. Achoo! 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 Ciao! Bye children! Ciao! Grazie a tutti.